Ragazzi, per un attimo la musica si spegne per lasciare spazio al ricordo. Signori, a nome del Cicope Beach, del Cicope, dell'Evone, vi chiedo un applauso a mani basse per una persona che purtroppo non può essere più quello di noi. La musica che si spegne è il vocalist che invita, tutti al silenzio, poi il lungo applauso che riesce a coprire ogni rumore. È il modo scelto dallo staff del Cicope per ricordare Crescenzo della Ragione, il giovane è deceduto a seguito del tragico incidente verificatosi nella nota discoteca della costa cilentana. Ieri gli organizzatori degli eventi hanno voluto tributare un omaggio al 27enne e così, dopo aver staccato la musica, il vocalista ha chiesto a tutti i ragazzi presenti di dedicare un forte applauso a mani basse al giovane, ucciso da un masso staccatosi dalla parete del locale. Signori, a nome del Cicope Beach, del Cicope delle Dune, vi chiedo un applauso a mani basse per una persona che purtroppo non può essere qui tra noi. Ciao Crescenzo! Queste le parole pronunciate a microfono e seguite da un applauso caloroso che ha comunato tutti i presenti. Crescenzo era su quella spaggia, poi si era spostato dinanzi all'ingresso della discoteca quando è stato travolto da un masso. Già l'indomani della tragedia la proprietà della discoteca aveva espresso tutto il dolore oscurando la pagina di Facebook ed esprimendo con un messaggio la propria avvicinanza alla famiglia di Della Ragione. Siamo in ginocchio e in preghiera per lui avevano scritto. Intanto è scontro frontale a Camerota tra il sindaco e il parroco. Si strumentalizza il dolore di tutti per emettere sentenze sommarie, gravide di livore. Così il primo cittadino, Antonio Romano, ha replicato alle accuse del parroco di Marina di Camerota, Don Giovanni Citro, che nei giorni scorsi aveva diffidato gli indagati per omicidio che ricoprono incarichi istituzionali a partecipare a manifestazioni religiose, quale ad esempio le processioni in forma ufficiale. Al centro della polemica appunto l'iscrizione nel registro degli indagati del sindaco e di altre tre persone nell'indagine della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania.